E' salito a tre il bilancio delle persone morte in Puglia per via degli effetti dell'influenza stagionale. A renderlo noto è l'osservatorio epidemiologico regionale, secondo cui sarebbero circa 120.000 i cittadini pugliesi colpiti sinora dal virus e 25 quelli finiti in rianimazione. Le tre vittime, dell'età di 62, 76 e 77 anni, erano ricoverate negli ospedali San Paolo di Bari, Miulli di Acquaviva delle Fonti e Alvito Fazzi di Lecce. Nessuno di loro si era sottoposto a vaccinazione ed erano tutti affetti da altre patologie. Secondo i dati diffusi dalla dottoressa Cinzia Germinario dell'osservatorio pugliese, in questi giorni sarebbero 36.000 le persone influenzate, anche se non si può ancora affermare con certezza se il picco sia stato raggiunto. Per farlo bisognerà aspettare la prossima settimana. Di certo, conclude la dottoressa, c'è che se non ci fossero state tante informazioni sbagliate sul rischio vaccino, si sarebbero evitate le vittime e i tanti malati gravi. La polemica è quella relativa al Flaud, il vaccino anti-influenzale, accusato di essere causa di una serie di morti sospette e poi definitivamente scagionato dall'Agenzia Europea del Farmaco. Ma i tanti, che negli anni passati avevano fatto ricorso ai vaccini con regolarità, si sono sottratti all'immunizzazione per paura di complicazioni, rendendosi ancora più vulnerabili al virus. La scorsa stagione, gli italiani rimasti a letto con la febbre sono stati poco più di 4 milioni, ma quest'anno il conto potrebbe essere più caro.